Ciao a tutti, sono Aldo. Oggi vi preparo un piatto che per me è eccezionale. La mia versione degli spaghetti alla carrettiera. Ingredienti. Spaghetti, olio, aglio, peperoncino, prezzemolo, pomodoro. Questa è la mia versione. Fare un trito di aglio, prezzemolo e peperoncino. In una padella poi, con l'olio, mettere il trito. Aggiungere un goccio di acqua. Per cuocere bene, senza far rosolare e dorare. A questo punto, aggiungere il pomodoro e salare. Poi ci sono mille altri modi di farlo con ingredienti diversi, eccetera. Però a me piace tanto l'aglio, pomodoro, il peperoncino. Quindi questo è il mio modo di farlo. E per me è eccezionale. Quando gli spaghetti sono al dente, circa 5 minuti prima della cottura, scolarli e metterli nella padella. Aggiungendo un po' di acqua di cottura, si rimarranno asciutti. Ed eccoli pronti. Il formaggio non ce lo metto. Però a chi piace, ci può stare. Io ci metto anche un pochino di olio al crudo. E poi assaggiamo, se sono venuti bene. Però sono sempre esquisiti gli spaghetti e la cadettiera. Nella mia versione. Buoni! Come si sente l'aglio e il peperoncino. Buonissimi! Ciao! Alla prossima!